... Ben ritrovati a tutti voi telespettatori di CatalanTV. In primo piano la situazione al centro residenziale Anziani di Alghero perché ieri pomeriggio è stato completato il giro di tamponi agli ospiti e agli operatori. Adesso ovviamente si attendono gli esiti. Intanto dall'opposizione il consigliere del Partito Democratico Mimmo Pirisi chiede che se ne parli in Commissione Sanità. Ma vediamo ora la situazione in Sardegna con 505 nuovi casi registrati nel bollettino di ieri a fronte però di meno tamponi eseguiti rispetto ai giorni scorsi. 2.589 6 i decessi, 3 uomini e 3 donne di età compresa fra i 65 e i 90 anni. Sono invece 512 pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi più 9 rispetto al dato del giorno precedente mentre di 72 il numero dei pazienti in terapia intensiva 2 in più rispetto al giorno prima. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.880 diamo conto come sempre anche dei pazienti guariti ieri 214 più altri 69 guariti clinicamente. E non si placano le polemiche sulla situazione del centro residenziale anziani. Da una parte noi con Alghero partito di riferimento dell'assessora Salaris difende il sindaco e arriva a stretto giro la replica di per Alghero la lista dell'ex sindaco Bruno che firma un comunicato durissimo. Oggi è facile soprattutto per i nostri oppositori seduti comodamente nei banchi della minoranza puntare il dito e gridare allo scandalo cercando di mettere in campo in un mare di menzogne il peggiore spettacolo a cui si possa assistere. Il coordinamento di noi con Alghero difende l'amministrazione dopo i recenti attacchi arrivati soprattutto dal centro-sinistra. Puntano il dito su tutto, sulla sanità, sulla scuola ma quello che veramente lascia la mare in bocca e il pesante giudizio sulla gestione della pandemia nel nostro centro residenziale anziani dove addirittura si dà del bugiardo al sindaco e di conseguenza si mette in discussione la gestione della cooperativa seriana 2000. Oggi la nostra comunità piange quattro anziani che purtroppo sono stati aggrediti e uccisi da questo virus. Abbiamo provato a tenerlo fuori dalla porta in tutti i modi gli anziani non escono da marzo, non vedono i familiari incontrano solo gli operatori che amorevolmente si prendono cura di loro. Si poteva evitare, forse sì, forse no ma soffiare sul fuoco della paura e dello sconforto e gridare alla catastrofe è un gioco da ragazzi scrivono i rappresentanti di Noi con Alghero. Ma questo non è un gioco e nessuno ha mai negato la preoccupazione e l'attivazione di tutti i protocolli dettati dalle decine e decine di PCM di questi ultimi nove mesi mesi in cui chi ha la responsabilità di governare e di decidere sa sicuramente di poter anche commettere qualche errore ma mai e poi mai si è sottratto al suo difficile compito. Proseguono da Noi con Alghero ringraziando in chiusura la cooperativa, la responsabile Gina Carta tutto il personale che quotidianamente lavora in contatto costante con l'infettivologo dottor Catello Napodano per la grande umanità, professionalità e coraggio in questo interminabile tempo. In tutta risposta dal centro-sinistra è arrivata una durissima contro-replica dalla lista per Alghero nella quale accusano la civica di centrodestra di nascondere la realtà con un comunicato scomposto di attacco all'opposizione per proteggere i loro assessori ormai terrorizzati e imbullonati alla poltrona. Tutto questo, mentre la loro sempre più inesistente assessora ai servizi sociali in questo anno e mezzo per il CRA è riuscita giusto a comprare un televisore. Le speculazioni della campagna elettorale con gli anziani che non potevano restare un giorno in più all'ostello sono dimenticate da tempo e l'assessora Salaris con il suo sindaco non è riuscita neppure a realizzare le coperture dei camminamenti, sostengono. Nel frattempo, anche nell'ultimo consiglio comunale diceva che tutto andava bene e che al CRA era tutto sotto controllo. Il lungo comunicato, firmato dal direttivo della lista di centrosinistra guidato dall'ex consigliera comunale Franca Carta prosegue con altre parole al veleno indirizzate anche all'altro assessore Emiliano Piras. Quindi una chiosa. Temiamo che per riuscire a conservare la poltrona non basterà attaccare l'opposizione con comunicati pieni di menzogne nel goffo tentativo di recare piacere al sindaco. Centrosinistra che ha attaccato il sindaco sulla mancata risposta all'interrogazione protocollata lo scorso 22 ottobre sulla gestione dell'emergenza Covid. Da Forza Italia intanto è arrivato in sostanza un appello all'unità su emergenza Covid. Non si può chiedere al sindaco di diffondere dati diversi rispetto a quelli legati alla pandemia. O come riteniamo, scusate, è che sulle questioni sanitarie legate alla pandemia occorre tenere bassi i toni e contribuire a creare un clima di fiducia e speranza per la nostra comunità, scrive il gruppo consigliere Azzurro. Per questi motivi siamo convinti che occorra maggiore collaborazione fra tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione su questi nevralgici temi. Collaborazione che deve prendere consistenza con un semplice patto fra amministrazione e maggioranza da una parte e opposizione dall'altra proposto dal sindaco e colto da tutti i partiti. Sottolineano da Forza Italia PUR nel rispetto dei rispettivi ruoli. Crediamo che le forze politiche tutte oggi abbiano delle responsabilità straordinarie sul tema della pandemia che devono essere esercitate con interlocuzioni serrate ed emarginando le polemiche. Commissione consigliare sul tema dell'acquacoltura. Domani alle 16 l'argomento sarà affrontato dai consiglieri comunali e dagli esperti del settore nell'incontro convocato dal presidente Cristian Mulas. La quinta commissione discute sul tema molto attuale in questi giorni con il coinvolgimento delle istituzioni, associazioni ambientaliste, imprese e comitati. L'ordine del giorno, analisi e concessione, impianto acquacoltura nello specchio acqua e antistante, forte della Maddalenetta, vedrà in collegamento video gli assessori Andrea Montis, Giorgia Vaccaro, Marco Di Gangi, il dirigente del settore, Michele Fois, il comandante della Capitaneria di Porto di Alghero, Pier Claudio Mosco Giuri, Francesco Ghiotto, rappresentante Lipu, Carmelo Spada, rappresentante WWF, Roberto Barbieri, rappresentante di Legambiente, l'associazione di imprese dei balneari in prema, Franco Pedrini, rappresentante FIBA Confesercenti, Andrea Mariotti, rappresentante associazione Wind North Shore, Nadia De Santis, rappresentante del comitato la Maddalenetta Alghero, e Fabio Cotogni, rappresentante legale della società cooperativa Vivarium. Coinvolgiamo tutti gli attori di questo argomento senza tralasciare nulla di intentato per mettere insieme le aspettative delle imprese e le richieste dei cittadini mirati alla fruibilità del nostro mare. In primo piano c'è sempre la valorizzazione e il sostegno all'imprenditoria che soffre più che mai a causa dell'emergenza, ma nel contempo dobbiamo anche tenere conto delle istanze, della comunità e delle attività sportive che nel nostro territorio trovano l'ambiente ideale, afferma il presidente della quinta commissione, Mulas. E noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ci ritroviamo subito. Ieri il sindaco Conoci insieme agli assessori di Gange Vaccaro e al CDA della Fondazione Alghero ha voluto salutare e augurare un buon lavoro agli studenti del liceo artistico Costantino all'opera con l'artista Tonino Serra a fare le da guida per preparare gli allestimenti urbani di Natale. Ci saranno le lanterne di rientro da Pesaro ma anche le gabbiette luminose che negli scorsi anni sono state particolarmente fotografate dai turisti e non solo ma sentiamo proprio le parole del primo cittadino e dello stesso Tonino Serra. Al mercato per salutare l'inizio dei lavori dei ragazzi dell'artistico dei loro insegnanti che coordinati da Torino Serra anche quest'anno regaleranno alla città gli addobbi in particolare l'arbero di Natale ma anche gli addobbi del centro per una ripresa che deve passare proprio da un impegno di tutti. Ecco questi ragazzi sono il simbolo di questo impegno di questa voglia di riprendere e io penso che sia importante che questo messaggio venga trasmesso a tutta la città Alghiero non si ferma Alghiero ha fiducia nel futuro e questo futuro passa proprio dal lavoro di questi ragazzi dall'impegno che ci stanno mandando mettendo per rendere la nostra città più bella dare un aiuto ai nostri commercianti alle famiglie in difficoltà e io penso che sia un bellissimo segnale. Allora intanto come ogni anno ringrazio sempre il sindaco la fondazione e l'istituto artistico in particolare perché ripeto senza ragazzi è impossibile realizzare questi elementi della bellezza non voglio essere ripetitivo però in questo momento la bellezza è una terapia chi esce ha voglia di sognare quindi vedere la città che è bellissima di per se stesso perché madre natura ha creato Alghiero una realtà meravigliosa per cui vedere che a sua volta è inghirlandita da degli elementi che gli stessi ragazzi che l'abitano li costruiscono li realizzano penso che sia una cosa favolosa quindi l'augurio più bello è che questi spazi insomma siano poi fluibili al più presto in una situazione comunque di grande serenità felicità salute cercando di superare questo momento che purtroppo è storico e mondiale e l'augurio più bello è che veramente queste situazioni anche nei colori abbiamo scelto il rosso che è il colore primario di vita di energia sia veramente di buon auspicio per tutti sentiamo adesso anche l'assessore alla cultura e al turismo Marco Di Gangi e una studentessa del liceo artistico ovvero Adriana Caria della classe seconda come ormai da diversi anni il liceo artistico la propria dirigenza il proprio corpo docente ma soprattutto i ragazzi perché con loro importante contributo ci consentono soprattutto in tempi difficili dove veramente le risorse finanziarie sono molto ridotte di ridare luce e io direi anche speranza alla città lo faranno con il loro lavoro lo faranno con il loro impegno e noi non vediamo l'ora di vedere appunto messe in opera installate tutte queste realizzazioni che sono il risultato del genio creativo di nostri concittadini come Antonio Marras come Tonino Serra che ci mettono nelle condizioni veramente di poterci freggiare del titolo della città più attraente e più luminosa almeno della Sardegna Buonasera a tutti io sono Adriana Caria frequento la classe seconda del liceo artistico Francesco Costantino e sono contenta anche quest'anno di partecipare comunque all'allestimento quindi a un progetto di bellezza che riguarda sia appunto l'arredo urbano ma anche l'albero di Natale quindi siamo venuti in supporto anche alle classi prime che sono le protagoniste a questo progetto soprattutto e siamo contenti di donare ancora una volta un po' di bellezza alla città quindi ringrazio tutti e insomma speriamo di dare grazie a voi davvero con cuore prima giornata a guardia grande dell'iniziativa Dasbarra Sanatot si conferma anche per la seconda edizione la consistente mole di conferimenti da parte dei residenti quattro i cassoni riempiti con vecchi elettrodomestici lavatrici tv e attrezzature a redivari il progetto ideato e promosso dall'assessorato all'ambiente prevede cinque tappe tra città e borgate dedicate al ritiro dei rifiuti ingombranti l'obiettivo è quello di tentare di contenere lo smaltimento selvaggio dei rifiuti che spesso avviene proprio nelle zone lontano da occhi indiscreti l'assessore all'ambiente Andrea Montes ringrazia tutti i cittadini che hanno aderito alla campagna e invita il prossimo appuntamento previsto per sabato 28 novembre a Fertilia dalle 8 alle 12 in piazza San Marco e restiamo in ambito ambiente scusando l'assonanza di parole una manifestazione che vedrà chi vorrà volontariamente impegnato a ripulire una parte tra le più belle panoramiche della nostra città è stata programmata il prossimo 29 novembre su iniziativa di due giovani algheresi si chiama Ripuliamo Alghero ne abbiamo parlato proprio con l'assessore Montis l'assessore Montis parliamo di Ripuliamo Alghero il prossimo 29 novembre una bella iniziativa per la nostra città nata da un comitato spontaneo Ripuliamo Alghero poi sentiremo anche le due persone che comunque hanno ideato questa giornata che cosa rappresenta per la città ma rappresenta intanto per quanto mi riguarda una grande novità anche con stupore ho ricevuto questi due ragazzi che non conoscevo che hanno avuto un approccio che mi ha stupito in quanto non sono arrivati a volgere esclusivamente delle critiche che ci stanno anche sempre perché siamo tutti perfettibili e tutti i servizi sono perfettibili ma si sono proposti insomma di dare una mano laddove sanno che l'amministrazione non può arrivare quindi un approccio secondo me eccellente soprattutto per la giovane età ci lamentiamo spesso che i giovani non sono coinvolti in questo caso invece abbiamo dei giovani coinvolti volenterosi molto audaci e io ritengo che l'amministrazione debba sempre sostenere queste iniziative e sono Stefano Naitana e ovviamente Fabrizio Costanzo le persone che hanno ideato questa giornata di Ripuliamo Alghero vi chiediamo da cosa nasce anche se ovviamente già sappiamo il tema beh nasce per via dell'esigenza comunque di dare anche un segnale alla città con l'idea di sensibilizzare quante più persone possibili e magari anche con la speranza di fare avvicinare i giovani ad un tema che comunque ci riguarda tutti quanti in prima persona come si svolgerà la giornata Fabrizio? ci incontreremo domenica 29 novembre alle 8 e mezza ci incontriamo direttamente in piazza del Balagher dove distribuiremo materiale buste e guanti ci divideremo in piccoli gruppi e poi puliremo il tratto sottostante diciamo dei bastioni trattori litorali sottostante fino ai bastioni Marco Polo alla fine un messaggio per i ragazzi giovani come voi l'assessore dice è bello quando i messaggi arrivano ma quando arrivano dai giovani è ancora di più significativo e il fatto che comunque dove non arriva magari l'amministrazione si può aiutare anziché colmare ma sì bisogna cercare di raggiungere un obiettivo comune alla fine il risultato è ciò che importa il mezzo non è importante noi nel nostro piccolo possiamo organizzare queste iniziative di volontariato che secondo me servono comunque per sensibilizzare dando il buon esempio e quindi combattendo certi fenomeni di inciviltà presenti anche purtroppo all'interno della nostra società algherese e quindi ci rimbocchiamo le maniche e diamo il nostro contributo pensando pensando erroneamente di ritornare in studio dopo l'intervista all'assessore Montis non avevo presentato questi due ragazzi che avrete capito sono Stefano Naitana e Fabrizio Costanzo loro hanno ideato ovviamente ripuliamo al ghero ed ora passiamo ad un altro argomento promo camera lancia il bando Sassess per favorire la nascita di nuove imprese grazie ai programmi comunitari ormai da svariati anni promo camera indirizza le imprese verso un contesto sempre più dinamico e competitivo creando sinergie al di fuori del territorio regionale dice il neopresidente Francesco Carboni come braccio operativo della Camera di Commercio di Sassari ci sentiamo responsabili per la crescita del tessuto imprenditoriale locale del Nord Sardegna e per questo dedichiamo tempo e risorse per aumentare le competenze dei nostri imprenditori avendo chiara l'importanza delle politiche europee come istituzione ci stiamo impegnando a valorizzare supportare e incoraggiare i rapporti tra le imprese sarde con il contesto territoriale trasfrontaliero creando sinergie di scambio vantaggiose per tutta l'isola tra i progetti attualmente in corso Sassess nasce con l'obiettivo di supportare la creazione di lavoro nei territori dell'alto attraverso l'attivazione di una rete trasfrontaliera di servizi quindi scouting coaching e tutoring per assistere lo sviluppo di iniziative di autoimprenditorialità nelle fiere prioritarie identificate appunto dal programma trasfrontaliero quindi nautica turismo innovativo e sostenibile energie rinnovabili e biotecnologie grazie a Sasset consentirà 25 partecipanti residenti in Sardegna di aumentare le proprie competenze per creare nuove imprese grazie a diversi strumenti che il paternariato metterà a disposizione da gennaio a maggio del 2021 dalla promocamera fanno sapere che le candidature saranno aperte fino al 30 novembre 2020 attraverso il sito interregmarittime.eu slash web slash success si potranno avere informazioni dettagliate e scaricare anche il documento che permette di visionare il bando vero e proprio ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale ora le previsioni del tempo per domani o come sempre vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a tutti Grazie a tutti.